Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. A Cipriano, qualcuno aveva immaginato che De Stefano si fosse prestato a svolgere il ruolo politico di cavallo di Troia del deputato Sannita. All'esito finale delle decisioni PD, i fatti hanno portato a concludere che, seppure quel sospetto si fosse rivelato delitiero, non di un cavallo si trattava, ma tutt'al più di un asino di Troia. Grazie a tutti.